buona giornata vale sempre la pena fare il bene è vero perché perché tende sempre a comunicarsi il bene attecchisce si sviluppa non sappiamo le modalità ma anche gli effetti che può produrre un'azione buona un'azione di bene che tu puoi fare anche se piccola anche se per te insignificante ma diventa un'occasione perché questa esperienza si possa alimentare e così produrre e diffondersi là dove si è quanto e come possiamo compiere questi passi quanto e come è un po come un sasso gettato in acqua a cerchi d'onda le cose possono svilupparsi in una maniera diversa ecco la modalità con cui fare e compiere questo bene l'omissione sostanzialmente è l'occasione mancata nel non averlo fatto eppure sapevo che ne valeva la pena il signore ti illumina e ti benedica buona giornata